Per quello che riguarda le destinazioni in Italia invece il discorso è piuttosto simile, con l'unica grossa differenza che il viaggio non è mai incluso. Quindi è chiaro che è sempre gratuito nel momento in cui andaste a fare un viaggio autonomo, prevediamo però per le destinazioni più lontane, per esempio un Bologna che vuole andare in Calabria a Scalea, ci sarà la possibilità di fare tutto questo attraverso un volo, un volo che però ha un extra di 170 euro che è già previsto, anche in questo caso potremmo decidere invece per esempio di partire da Rimini, sempre per andare a Scalea, ma Rimini, quindi andando a guardare la colonna di Rimini, Scalea la troviamo in questa posizione qua, quindi andiamo a incrociare e vediamo che abbiamo una celletta grigia, cella grigia significa che è a richiesta, quindi in questo caso se volessimo partire da Rimini per andare a Scalea il 23.6 del 2023 è in grigio, vuol dire che di base non è previsto un volo, però chiedendo al nostro call center magari c'è la possibilità di ottenere un volo a delle condizioni particolari, altrimenti ovviamente le persone possono recarsi a Scalea partendo da Rimini con un viaggio autonomo, comunque organizzato in maniera autonoma. Allo stesso modo possiamo fare anche per l'Italia il ragionamento in base alle date, quindi se i vostri figli possono partire da luglio, quindi dal 4 di luglio fino al 23 di luglio, ragionate e fissate questa fascia in orizzontale, vedete che questo è ordinato in base alla data, quindi se i vostri figli possono partire in questo periodo andate a evidenziare dove loro preferiscono andare, ovviamente confrontatevi con loro e poi a secondo di dove abitate potete decidere o ovviamente di andare con un viaggio autonomo oppure se volete mandarli con un volo a questo punto andate e se partite da Bologna e ragionate in questa direzione potete avere tutte le opzioni per quel periodo e quindi vedete che nel caso dell'Abruzzo per esempio potreste e sareste costretti a viaggiare in autonomia perché non è previsto nessun volo in partenza da Bologna, però nel caso in cui vogliate andare sempre in Calabria a Rossano Calabro, al Club Nazica, in questo caso è supportato, semplicemente andrà fatta un'integrazione di 270 euro. Quindi nel caso in cui siate vincolati dalle date dei vostri figli perché magari hanno degli esami o perché avete già altri impegni familiari, questo documento vi verrà molto molto in aiuto perché andate sulla colonna data, la data è già ordinata, fissate il vostro intervallo dentro i quali avete questa disponibilità e poi ragionando per le colonne andate a incrociare con le vostre città di partezza e capite subito se ci sono previsti degli aerei oppure se dovete organizzare il viaggio in autonomia.